Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole, diceva Flaiano, le nuvole, luogo dei sognatori, il cinema, paradiso dei sognatori. E qui siamo al Media Museum di Pescara. E come leggete qui, lavoro in corso, perché parleremo di un progetto di riqualificazione importante per questo luogo, che diventerà MOC Ennio Flaiano, museo dell'Officine del Cinema, intitolato appunto Ennio Flaiano. Un luogo identitario per la città, che sarà completamente valorizzato e riqualificato, grazie a un progetto molto ambizioso, curato da Francesca Villanti, che andiamo a conoscere. È una sfida e in realtà è un po' come succede sempre, l'idea di renderlo attuale, l'idea di renderlo fruibile, soprattutto per i giovani. Ormai sono passati tanti anni da quando è stato costituito, per cui è giusto che il museo vada avanti così come i tempi. La struttura è una struttura bellissima, così come la piazza che lo accoglie, nel senso che il museo ha delle potenzialità incredibili per la città di Pescara, forse dovute proprio alla piazza, nel senso che questo spazio pedonale che ci accoglie prima di arrivare al museo consente proprio di renderlo un luogo della città. E un museo del cinema a Pescara non può che essere dedicato ovviamente a Ennio Flaiano. Carla Tiboni, è giunto il momento di dare nuova vita a questo luogo che noi abbiamo definito magico della città di Pescara e l'occasione importante è data appunto da questo importante finanziamento che giunge dal Ministero degli Interni. Sì, ci siamo. Finalmente il sogno che, diciamolo, il sogno di Edoardo Tiboni che si realizza, quello di creare un museo del cinema, un museo del cinema però moderno, e che raccontasse nella sua modernità e tenesse conto anche della storia del cinema, ma soprattutto che celebrasse uno dei nostri illustri cittadini che è Ennio Flaiano, che credo sia uno dei più grandi sceneggiatori italiani, ma soprattutto uno dei più grandi intellettuali del Novecento. Quindi è una notizia importante, ma credo che sia una notizia importante per la comunità pescarese, e per la comunità culturale pescarese.